Le condizioni sono stabili, i parametri buoni, ma resterà comunque precauzionalmente in terapia intensiva, almeno fino a lunedì, Marta Novello, la 26enne aggredita a Marocco. Questo significa che con ogni probabilità sarà sentita dagli inquirenti nei primi giorni della prossima settimana. Per procedere, infatti, serve l'ok della procura, ma anche dei sanitari. Al momento la priorità per tutti è che Marta si rimetta, i segnali sono più che incoraggianti. Marta interagisce, ha delle interazioni col personale assolutamente normali, consone all'ambiente e da un punto di vista cognitivo è assolutamente indenne. A fare il tifo per Marta non solo la famiglia, gli amici di una vita, l'intera comunità di Marocco, ma anche l'Ateneo di Padova, dove la 26enne si sta per laureare e dove l'aspettano con ansia. E noi la immaginiamo invece, la rivolgiamo presto nelle nostre aule a completare il lavoro di tesi che sta portando avanti, in modo da festeggiare presto con lei un momento di grande gioia. Non solo il Rettore, a stringersi attorno a Marta anche il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, dove in angoscia delle prime ore ha lasciato spazio alla speranza e dove tutti la descrivono come una ragazza appassionata e intelligente, esperta di lingue e di mediazione culturale. Unico in miglioramento ha parlato senza mezzi termini di un miracolo, lo stesso presidente della regione, Luca Zaia, che in un post su Facebook ha ringraziato l'intera equipe medica del Cafoncello. Io assolutamente confermo, l'impegno, la competenza e la professionalità dei medici di Cafoncello è stata assolutamente straordinaria.